Sono 14 concorrenti agli ordini dello starter, rapporto di scuderia che riguarda il numero 3 Ulrich Pisane ed il numero 4 Zibellino Abbi. L'allineamento si va ultimando. Alla chiusura delle ali, Venus ferma, attacca Ululaget. Assume nettamente l'iniziativa nei confronti di Ulrich Pisano che scende in seconda posizione. A tabellone Zara FKS squalificata e così Venus ferma a buona andatura. Squalificata anche via Colvento Carra. Il primo quarto viene percorsi in un notevole 28,6. Ulrich Pisano a circa 20 metri precede Ululaget, poi Zandale a precedere Zinniagal. Notevoli i 600 dell'allieva di Raffi Chiaro in 43,3. È vero che il prossimo mese c'è il lotteria, però forse è andata un po' troppo veloce. D'altronde è un po' il suo modo di correre. Adesso cercano di ricucire il gap Ulrich Pisano, Ululaget e Zandale. Mentre la leader completa gli 800 in 58,7. Ed il chilometro in 14,8. Adesso Ulrich Pisano si sposta ai lati della battistrada che sembra non reagire. Difatti Ulrich Pisano sta passando e si avvicina anche Ululaget seguita da Zandale. Uno 29,5, tre quarti di miglio in fuga a Vincenzo D'Alessandro con Ulrich Pisano. Sembra non essercene più per nessuno. Ulrich Pisano. Facile facile per il doppio di Vincenzo D'Alessandro. Uno in gentleman ed uno in professionisti. Al secondo Ululaget. E al terzo, numero 9, Zandale. 3,2,9. L'arrivo probabile ed ufficioso. Media di 1,13,9 per il ritrovato Ulrich Pisano. Non nuovo a dei veri e propri esploit. Anche sull'anello del Cirigliano di Aversa. Il figlio di Nadal Sheba ed Utopia Pisana. Servito a dovere dall'andatura della scatenata Venus Firm. Passa e conclude netto nelle mani di Vincenzo D'Alessandro per i colori di casa della Super Galaxi. È tutto dal Cirigliano di Aversa. Arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà mercoledì 16 settembre.